Mezz'ora fa Mezz'ora fa Ma siete di Genova? No, Parma Parma, siete venuti apposta per lui? Sì Avevate già i biglietti per giugno? Sì, sì, è stato un faticosissimo trovarli L'importante è essere qua Esatto Che canzone aspettate stasera? Che canzone aspettiamo? Afrodite È quella che va per la maggiore? Sì, è molto bella Allora, siete genovesi, siete qua per Blanco A che ora siete arrivati per essere qua davanti? Una mezza circa Vabbè, dai, avete conquistato un buon posto allora Che canzone aspettate stasera? Afrodite Afrodite, anche tu? A che ora siete arrivati? A 10 e un quarto A 10 e un quarto, da Torino Da Torino? Massa Io non sono riuscita ad andare ad Alba Quale è la vostra canzone preferita? No, io non sono riuscita ad Alba Nostalgia Nostalgia Da tu? Difficile Difficile? Direi Da dove arrivate? Siete di Genova? A che ora siete arrivati al concerto? Allora, lei è Soprima Vara Siamo arrivati alle Orte Melda L'isola di Genova e siamo arrivati alla Pia Quindi è una coda lunga Come avete passato la giornata? Noi è la prima volta che veniamo Visto Fè 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 Sperate Sperate Visto Fè Cosa vi aspettate? Prima volta che vedete Blanco Live? Sì Cosa vi aspettate dal concerto? Sì Soprattutto quelli sotto l'aube Forse l'ustalgia A che ora siete arrivate? Da dove? Alle 3 dalla Galapia Come mai così distante? Perché ci dovevamo amore di Blanco Mi amore di Blanco Primo concerto che vedete? No E andremo pure a Cosa Visto